Allora, io mi sono innamorata, mi sono innamorata di questa macchina, la voglio subito, è una macchina che ti permette di creare, come vedete, un effetto pixel in un attimo, quindi è una macchina super potente, ma allo stesso tempo ha uno stroke di 2.8, quindi mi permette di non infiammare assolutamente la pelle, ed ha una battuta estremamente morbida. In più, il peso ti permette di bilanciare e di creare sia un pixel in modo direzionale alla perfezione, ma anche un movimento a pendolo. Un pixel stupendo! Un effetto polveroso fantastico, dopo la vedremo in azione, quindi non vedo l'ora di provarla sugli occhi. Poi vi farò vedere il risultato.